A emozioni e colpi di scena nel primo appuntamento casalingo stagionale dello Suni Calcio davanti al proprio pubblico. La squadra guidata da Antonio Cire si gioca a un bruttissimo primo tempo, subisce due gol per poi ribaltare caramorosamente il risultato nella ripresa. Lo Suni si presenta in campo con diversi acciaccati e sin dalle prime battute soffre la disposizione tattica di mister Oliva. I padroni di casa scelgono un pressing a tutto campo che però non basta a spezzare le trame degli ospiti. Al diciannovesimo Sanna ci prova con una conclusione di prima intenzione che si bila vicino all'incrocio dei pari della Porta Salentina. Al ventisettesimo ospiti vicinissimi al gol. Ponso sfrutta una ripartenza super allo scalzo con un pallonetto ma colpisce la traversa. Lo Suni è in difficoltà e al trentanovesimo gli ospiti passano in vantaggio. Cortese entra in aria da destra e supera lo scalzo con una conclusione che si infila tra palo e portiere. 0-1 L'Ugento capisce che i padroni di casa sono in difficoltà e al quarantunesimo raddoppiano. Ponso al centro per Luperto che prima trova la respinta dello scalzo, poi c'entra la rete che vale il 2-0 per gli ospiti. Con le immagini di Flavio Ceglie passiamo alla ripresa che si apre al settimo minuto con l'espulsione di Tarsilla dell'Ugento, colpevole di aver reagito in maniera violenta ad un fallo di Ragnani. Con un uomo in meno gli ospiti crollano e lo Suni ne approfitta. Gira e ci sposta Forbes sulla corsia di destra e l'esterno va a nozze. Al quattordicesimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo Danese spinge in rete un pallone vagante e accorcia le distanze 1-2. La gara cambia, lo Suni è padrone del campo, al ventesimo Cavallo trova la rispinta di Damiano su conclusione ravvicinata. Al ventunesimo il pareggio dello Suni sempre su azione d'angolo calciato dal bravissimo Gennari. Danese fa da sponda per Petruzzella che di testa sigla il gol del 2-2. Ora lo Suni ci crede, al venticinquesimo Marasciulo con un tiro cross centra il palo con Damiano battuto. Il gol ormai è vicino, Lugento è alle corde e al ventiseiesimo va al tappeto. Danese, ancora lui, sigla il gol che vale la clamorosa vittoria con un colpo di testa ravvicinato. Finisce 3-2 per lo Suni che raccoglie gli applausi del proprio pubblico in una domenica che sembrava destinata ad un finale decisamente diverso. E domenica prossima i giallo-blu cercheranno conferme sul campo del Carovigno. Obiettivamente abbiamo visto tutti che nel primo tempo siamo entrati un po' contratti. Bisogna anche fare però i complimenti alla squadra, agli avversari, chiaramente, che sono stati in campo bene, ci hanno messo in grosse difficoltà, hanno concretizzato le occasioni che sono riusciti a creare. Da parte nostra ci sono stati un po' di errori che dobbiamo sicuramente correggere in alcune circostanze. Nel secondo tempo si era chiesto più concentrazione, più una prova di carattere e di tenere un po' più la palla anche a terra. L'espulsione sicuramente ci ha agevolato un pochettino, però effettivamente sembrava che avessimo preso un altro piglio. Tatticamente avevi chiesto un pressing altissimo che però nel primo tempo non ne ha servito, perché loro erano bravi negli scambi brevi e lì vi avevano messo in difficoltà. Lì ci hanno messo in difficoltà perché avevo chiesto ai nostri esterni di andare a pressare anche molto alto, cosa che abbiamo fatto con un po' di lentezza nel primo tempo e questo ci ha creato qualche difficoltà. Nel secondo tempo, anche sfruttando il cambio di fascia di Forbes, che sicuramente sulla parte destra e la sua corsia si trova meglio, siamo riusciti a spingere un pochettino meglio, siamo riusciti noi a concretizzare quello che volevamo. Quattro punti in due giornate, un ottimo inizio, nonostante siete partiti in ritardo, domenica c'è il derby a Carovigno. Insomma, niente male per cominciare. Sì, hai detto bene, niente male per cominciare, considerato il ritardo che abbiamo avuto nell'inizio di preparazione, non solo il ritardo che abbiamo avuto tutti, ma alcuni dei ragazzi si sono aggregati anche una settimana, se non dieci giorni dopo che avevamo cominciato il ritiro, quindi alla fine del mese scorso. Per cui, sì, diciamo, per ora va più che bene, a livello di risultati va bene, però dobbiamo lavorare parecchio, lo sappiamo, perché dobbiamo sistemare un po' di cose che magari, viste anche da fuori, anche oggi abbiamo visto qualcosa da aggiustare, c'è sempre. Una squadra come la mia non può prendere tre gol tutti uguali su calci piazzati, tutti allo stesso modo. e sono arrabbiato pure per questo, perché di solito queste gol non le facciamo, però oggi, non so, l'unica cosa che dico è che bisogna continuare a lavorare e migliorare su queste cose.